Oggi con questa azione di sofferenza civile non diretta voglio assicurare la causa dell'ultima federazione perché queste giovani possono essere le mie figlie, le mie studenti e le loro vite saranno presto in pericolo per la siccità, le carestie e le migrazioni causate dai cambiamenti climatici e io sono profondamente grata a Larry Warhol per quest'opera di arte pop così simpatico che è il consumo insostenibile delle sue opere del pianeta C'è un connesso ecologico e climatico in corso, ma nessuno ne parla, basta, basta bisogna occuparvi questa cosa è una questione di mare comune, è una questione della nostra società, ci saranno migrazioni ovunque, abbiamo perso un quarto nel nostro raccolto, non ci sarà più cibo, c'è stata la peggiore di città negli ultimi 500 anni, ti fai un lavoro e ti fai soldi e l'elettricità Ma no, non devi pagarla, devi produrre l'elettricità in qualche modo, ed è questo il problema Stiamo parlando del collasso di attività Grazie